aspetta prima che entri in questa casa sappi che farlo potrebbe cambiare il corso della tua vita non ho paura dei fantasmi questo lo dici adesso questa casa a dir poco bizzarra questi fantasmi non hanno intenzione di andarsene la morte ti aspetta dietro ogni angolo signore dacci tregua ci sono tante cattive persone al mondo perseguita loro amm mi piacciono le sorprese lo vedete anche voi spero anche a te dobbiamo combattere che ci piaccia o no o saremo bloccati qui per l'eternità se qui serve un esorcismo siamo in grossi guai questa casa è piena di anime ma c'è sempre spazio per un'altra anima hanno rapinato il mio amico un tizio alto con i capelli che spuntavano da un cappello a cilindro un cappello a cilindro sì sì esatto sì un cappello a cilindro tipo quelli da qui escono i conigli bianchi e gli occhi erano un po è infossati molto infossati tipo quelli di un progione palle da biliato nelle orbite e aveva un ghigno sì così ci assomiglia fico l'hai fatto così al volo ah 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 ah